Ma là dentro, il colpo di testa, la palla in rete, il gol di Samir, all'esordio in Serie A sblocca il risultato, Samir passa in vantaggio il Verona Bologna 0, Verona 1. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei scriviti e revisione a cura di QTSS Autore dei scriviti e revisione a cura di QTSS Autore dei scriviti e revisione a cura di QTSS Autore dei scriviti e revisione a cura di QTSS